Gianluca Soranni, allora al Castelfidardo in attacco, ci siamo detti a telecamere spente, ex di turno e tu mi hai risposto bei tempi al Campobasso. Bisogna riavvolgere il nastro di quanto? Di 16 anni? 16 anni, sì. Non sono pochi? Non sono pochi, però sono ricordi vivi nella mente perché io ero giovane e grande piazza, a quei tempi poi campionati importanti di C2, ho perso purtroppo, ma mi ricordo un pubblico importantissimo per la categoria, all'epoca avevamo più pubblico di squadre di Serie B, quindi bellissimi ricordi. Era tutta un'altra storia, se si pensa a questo presente che è fatto di una squadra giovane, di un pubblico che si deve ancora rinnamorare della squadra Rosso-Blu, non so se dopo quella parentesi hai comunque continuato a seguire il Campobasso attraverso la stampa. Sì, sì, mi ha sempre interessato e ho visto poi negli anni, purtroppo, ci sono stati anche dei fallimenti e comunque un arco di tempo di 15 anni ne sono capitate di cose, però all'epoca sicuramente era una piazza ambitissima. Ecco, in 15 anni il Campobasso è in Serie D, quindi tu l'hai lasciato in Lega Proga, all'epoca si chiamava C2, play-off persi, ricorderai lo spareggio contro il Sora di fronte a quante persone? Ti ricordi? Credo più di 15.000, la partita col Taranto siamo arrivati 18-20.000. Più di 15.000, il Campobasso è in Serie D dopo vari fallimenti, come hai detto tu, che cosa hai fatto in questi anni? Ho girovagato un po' per tutta Italia, fortunatamente ho continuato a giocare alternando Lega Pro, la vecchia C, o comunque Serie D e ci siamo rincontrati quest'anno. E adesso a Castelfidardo per una salvezza tranquilla? Sì, la squadra, la società è una società solida e dovevamo recriminare più che altro per un po' di pareggi di troppo, un po' per colpa nostra, un po' per vicissitudini e calcisti che ci sono dappertutto e quindi puntiamo a sistemarci un attimo. Questa vittoria di oggi per noi è stata fondamentale, già mercoledì nel recupero ci è sfuggito con l'area canatese e quindi oggi era importante per noi. Prima della partita volevi fare il gol dell'ex? Volevo fare gol, punto. Poi dell'ex in questo caso sarebbe stato bello, ma più che altro perché anche noi stiamo facendo un po' di fatica a segnare e quindi per un attaccante che vive per il gol, fare gol era importantissimo, oggi sarei stato contento fosse capitato col campo basso. Va bene, allora innanzitutto ti facciamo all in bocca al lupo per la tua stagione contro il Castelfidardo, ci ha fatto piacere rivederti ma soprattutto sentire le tue parole di affetto, stima che conservi davvero vive per il campo basso perché davvero ti si è visto dagli occhi insomma. Sì, a me ripeto, ero in una squadra di gente fortissima, ero giovane, mi è servito molto soprattutto venire a giocare al sud perché io sono del nord, era la prima esperienza al sud e mi ha formato molto. Grazie.